Musica Brutto incidente sulla circonvalazione di Rivarolo Canavese di fronte al Polo di Protezione Civile, oggi mercoledì 6 dicembre, poco dopo le 11.30. A scontrarsi un furgone Transit Connect, condotto da un 25enne di Rivarolo Canavese, e un mezzo pesante della ditta Eurotech. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Rossa di Rivarolo e Castellamonte, la Croce Verde, l'elicottero dei Vigili del Fuoco, i Vigili del Fuoco di Ivrea, la Polizia Locale e i Carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, pare che il mezzo pesante stesse svoltando verso la strada sterrata che costeggia la carreggiata e il furgone non abbia frenato in tempo. L'impatto è stato violento e il Transit si è ribaltato su un lato al centro della corsia. I Vigili del Fuoco hanno estratto il giovane che era rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo e lo hanno affidato alle cure dei sanitari, che l'hanno portato all'ospedale di Cirie. Pare che abbia riportato solo la frattura del femore e qualche contusione e non sia in pericolo di vita. Il leso è il conducente del mezzo pesante. La carreggiata è rimasta bloccata al traffico veicolare nel tempo necessario alle operazioni di soccorso e rimozione. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.